Bentornati a un nuovo appuntamento di ASOS Aghezzo TV, buonasera Beppe Marconi. T'ho fatto venire in campagna. Siamo a Vibiano, famosa località a Mena del Basso Casentino sulle colline che sovrastano Arezzo. Siamo veramente... qui comandiamo... anche sovrastiamo la città ad Arezzo, tutti i nostri piedi. In questa settimana la passeremo qui a Vibiano ma continueremo a farvi vedere delle cose che abbiamo trovato in giro. Sì, la passa qui a Vibiano perché l'ho costretta, passando qui a Vibiano perché essendo calda, avendo una certa età non posso andare su e giù e quindi di conseguenza i giovani si devono spostare e quindi io sono la fonte e la fonte non si sposta. Tu hai visto le immagini che abbiamo girato e quindi adesso ci commenterai queste situazioni che abbiamo documentato e questa sera parliamo e non possiamo evitare di parlare di Saione o meglio diciamo di alcune strade di Saione in particolare la famosa ormai via Piave, via Montegrappa, della zona verso la ferrovia. Il problema è quello. E c'è stata un'algarista domenica scorsa, bottigliata, è intervenuta la municipale, la polizia e lì poi tra l'altro ci sono dei residenti che dicono, sì adesso tra poco li sentiamo, dicono il problema c'è, il comune dovrebbe fare di più però sono anche infastiditi della pubblicità negativa che viene fatta insomma. Questo è logico, è logico perché si riprendono su di loro in modo negativo tutta una serie di cose e tutta una serie di considerazioni. Non ultimo anche il valore degli immobili perché stiamo andando a venderlo, essendo dichiarata zona degradata la cittadina del valore cala. La problematica sono questi pochi estracomunitari, perché sono pochi estracomunitari che purtroppo fra di sé, perché poi succede solo sempre fra di sé, creano queste azioni di disturbo che effettivamente danno noia perché poi cosa succede? La gente si imparisce, non esce, non partecipa alla vita sociale e quindi di conseguenza loro si impariscono più sempre del territorio. E questo è un errore, la gente non deve avere paura, deve comunque sempre vivere il proprio territorio e far sì che questi si allontanino oppure si integrano nel tessuto sociale come si devono integrare. Il problema però è che invece che allontanarsi diventa sempre di più, purtroppo, alcune strade quasi un quartiere ghetto dove gli aritini tendono a, se ci abitano, magari non frequentarlo più di tanto. Poi è anche vero che ci siamo trovati in via Veneto di poveriggio e si sta benissimo, si passeggia benissimo, non c'è tutto questo allarme che viene descritto, è proprio confinato a alcuni punti in alcune ore. Poi siamo stati già diverse volte lungo la ferrovia, là in fondo dove addirittura adesso c'è stato il cettino delle seringhe. È vero perché in effetti il giorno si viaggia tranquillamente senza nessun problema. Io non so la notte perché la notte non sono abituale, una volta uscivo, adesso invece purtroppo non ne esco la sera e quindi di conseguenza non mi rendo conto. Prima Arezzo la notte si girava tranquillamente tutta senza nessun problema. Oggi purtroppo questi problemi ci sono, devi stare proprio attento, magari non devi uscire da solo, ma devi uscire in compagnia. Che dire, le problematiche che sono sempre coloro i quali poi alzano il gomito o si drogano perché altrimenti difficilmente succedono questi fatti se non magari se c'è qualche attito fra di loro, perché mi sembra che c'è stato qualche attito fra questi due signori per i quali è venuta questa rissa. Niente, che facciamo? Come si fa a presidiare tutte le strade? Che si mette l'esercito? Qualcuno in consiglio ha proposto il divieto di vendita di alcolici in bottiglia di vetro. Vabbè, non è mica questo. Che si risolve quando si fa il divieto di vendita? Si è visto che lo è successo a Torino quando c'è la finale di Coppa dei Campioni. Chi lo fa rispettare? Quindi chi lo fa rispettare? Chi c'è a controllare? Poi lo comprano tutti i supermercati, lo comprano tutti i bar e poi se non si vende in bottiglia, se lo prendono in plastica, veramente è un grosso problema. Che facciamo? Il controllo come si fa nei concerti? Visto Vasco Rossi veniva controllato tutte le bottiglie che entravano aperte e controllato se effettivamente dentro non ci fossero alcolici. Diventa veramente difficile, qui la gente si deve educare, non si può comprimere. Sentiamo un po' di residenti, la nostra Chiara Sadotti ha raccolto qualche voce. Chiedono un maggiore controllo della situazione qui nel quartiere con intervento sia la polizia municipale ma anche i carabinieri eccetera. Poi è inutile che mi vengano qui a fare i presidi la mattina alle 10, non c'è nessuno, sono a letto perché che ti fa niente. I presidi, qui il casino, la confusione, scusate il termine, è dalle 6 fino alle 9 la sera. Le donne si sentono maggiormente insicure. Per quello che mi riguarda io, e ho qui anche una figlia che è giovane, per cui temo ancora di più. Immagino che però se in quei momenti passa un uomo e questi qui hanno in mano un coltello e danno dei fori, non è che stanno a guardare il nome una donna. Le donne ve lo lascio immaginare poi, ve lo lascio immaginare. Sono arrivati in 40 sotto le gallerie là, ubriachi fradici, nessuno fa niente, dice che sono solamente 13 rifusati, non è così. Non so, alla fine succederà qualcosa di grosso e forse allora si rendereanno conto che questo non è più un modo di poter vivere in questa città. È inutile continuare a dare da bere le persone che abbiamo qui davanti, dopo vengono fuori i casino. Io mi hanno chiamato tra virgolette il sindaco di Saione, non lo sono il sindaco di Saione, sono un abitante di Saione da una vita, da oltre 60 anni, nato e cresciuto qua, ma vedere questo degrado mi è venuto veramente sui stivali. Che tutte le sere ci sia un problema inerente alla vendita di alcolici non va bene e ex superalcolici non qui, perché superalcolici vengono in altre parti. Poi dopo, casomai, qualche pochino di droga diventa un casino. Il malcontento è evidente a livello politico, Glinelli, questa cosa la pagherà secondo te? Ma senti, quando io non ero ex e mi ero l'assessore della sicurezza, bastava che succedesse una piccola cosa, la destra attaccavano in modo paroso. Oggi che succedono grandi cose, la destra è veramente in difficoltà, perché non sa che pesce pigliare. Non sa veramente che pesce pigliare, perché il problema insorge sempre più e si sta elargando, addirittura visto il sindaco che c'è anche la richiesta dell'esercito. Sì, mettiamoci carri armati, cannoni. In via piave. Assoluto, via. Non è questo il sistema. Io ho fatto una politica nazionale completamente diversa. Però la gente dà fastidio, sai cosa? Che magari i dati e i numeri sono quelli, no? Ti dice, non so, la questore paradetto, no? Che a Sayone i reati sono calati al 10% e sicuramente sono i dati ufficiali. Però poi ci sono reati che non vengono denunciati. C'è una percezione comunque, no? Come hai detto te, in queste vie in cui la gente non si sente sicura. Io mi metto nei pagni anche del residente, no? Che sente che le forze dell'ordine hanno la sensazione quasi che vogliono sminuire con questi dati il problema. Chiaramente loro danno i dati che hanno in mano? Eh, questo è evidente. D'altronde se i numeri sono quelli, sono quelli. Effettivamente molte volte le gente piccoli furti hanno lì denuncia. Quindi sono d'accordo, sicuramente non è ufficialmente è diminuito, ma di fatto, magari mettiamo che sia, potrebbe essere anche diminuito. Soltanto questi fatti così clatanti poi creano un allarmismo molto più grosso magari del reato, sì, pesante del furto in casa, pesante di altri furti, ma la rissa crea effettivamente più apprezzione rispetto a un reato diverso, capito? Ci vediamo domani. Ciao.